ciao ragazzi oggi una giornata di merda con la nebbia stiamo cercando quattro cervi ma ci siamo arrivati addosso a uno dopo un po ma l'altro sarà ancora vicino adesso andiamo a raccogliere questo qua che è una delizia stupendo adesso lo zio commemora l'alzata della corona non so se mi sento se mi sento pronto tanta roba signori le magie dell'indiano vieni avanti prego indiano a che momento ma allora questo qua abbiamo visto lo cannocchiale a quattro chilometri da qua abbiamo guardato per un mese poi ci ha fatto una grossa nevicata adesso siamo abbastanza una media altezza e sapevamo che più o meno da fatto uno spostamento minimo di un chilometro però più o meno avveniva le tracce venivano da questa parte poi con la nebbia che veramente un posto diciamo nuovo girando girando a fortuna io e lo zio dagli sempre dentro dentro ce l'abbiamo davanti ce l'abbiamo davanti puttano che bestia testone eh l'altro abbiamo visto che la pastura è vicino non è tanto agitato potesse che sia o a destra o a sinistra o nel pascolo o qui nel bosco dove venivo a dormire adesso facciamo una bella ricerca e speriamo di farvi vedere l'altro io come sempre vi saluto e li dico a cervo coronato sempre dagli secco come sempre se no mi fai incazzare e lo so che li dai secco ciao ragazzi dai alla prossima prima che va a piovere ciao ciao